Prevenzione e benessere le parole chiave per l'iniziativa promossa dall'Associazione Incontra Donna e dalla Regione Lazio e che sarà protagonista venerdì 17 e sabato 18 giugno presso il Villaggio della Salute allestito nei pressi del laghetto dell'Eur. La Regione Lazio parteciperà alla due giorni con uno spazio informativo che ospiterà anche uno sportello mobile Recup. Presentando un'impegnativa del medico si potranno effettuare prenotazioni di visite specialistiche per una serie di patologie. All'interno del villaggio nell'area prevenzione saranno inoltre presenti stand ed ospedali da campo allestiti della Croce Rossa dove effettuare visite mediche gratuite tra cui quelle senologiche, ecografiche, i pap test, la mocca e gli ultrasuoni. Nell'area benessere saranno invece organizzate tra le altre cose lezioni dimostrative di yoga. Insieme all'Associazione Incontra Donna è un villaggio per la prevenzione più che altro dedicato alle famiglie quindi non soltanto alle donne, far capire quali sono gli stili di vita che bisogna intraprendere perché molte patologie vengono appunto da stili di vita sbagliati, il collegamento tra la salute e lo sport e sicuramente la prevenzione a cominciare appunto dal tumore al seno che è uno dei tumori per i quali l'impegno preventivo ha sicuramente dato dei risultati importanti. Quindi un'altra prova di amministrati a cuore non più sul camper ma al laghetto dell'Eur che però è un'altra modalità per andare incontro a quelle che sono le esigenze di salute dei cittadini. Questa volta scenderanno in piazza anche gli operatori del Recup per le prenotazioni? Assolutamente sì, ormai in qualsiasi iniziativa la regione mette il suo sportello di Recup quindi basta anche lì andare con una ricetta medica per prenotare. Ci sarà anche domani al Sanit ma in tutte le iniziative dove comunque la sanità è presente questa nuova forma di Recup viene messa a disposizione.